Come sempre l'impegno della Borgata Spezia Centro è quella di essere presente con tutti e tre gli equipaggi, un primo obiettivo su cui puntate molto, ma ovviamente le ambizioni sono anche quello di rifare bene, come già accaduto proprio anche lo scorso anno. Eh sì, noi come storicamente ormai da diciamo decenni ci presentiamo alla prima prepaglio con tre equipaggi, quindi equipaggio femminile, equipaggio junior e equipaggio signores, agguerriti come sempre e per i risultati. I risultati speriamo di fare meglio dell'anno scorso, quindi a vuole deduzioni. Ecco, come sempre al di là della parte sportiva ovviamente importante, c'è sempre forte anche l'impegno proprio da parte della Borgata verso il sociale. Quali sono poi i progetti messi in campo quest'anno? Allora, diciamo che come sempre ormai da numerevoli anni siamo impegnati molto sul sociale, lavoriamo con ragazzi diversamente abili e a me piace definirli che abbiano un'uguale diversità. Noi lavoriamo principalmente in questi anni con ragazzi disabili intellettivi e affetti di autismo. Adesso abbiamo altri progetti in cui cercheremo di fare vogare dei ragazzi che non hanno l'uso degli altri inferiori, quindi con una barca dedicata. Questo impegno lo porteremo avanti anche grazie al connubio che si è creato ormai da anni con la Lega Navale Italiana, sezione della Spezia e continuiamo comunque a dare gioia a noi per primi e a questi ragazzi facendogli fare sport.